Si va davanti anche con le azioni in Africa, investendo di più, serve una vera strategia, un vero piano Marshall che abbia una durata molto lunga, gli investimenti previsti vanno bene ma non sono sufficienti, bisogna investire molto di più, dobbiamo pensare anche al prossimo bilancio dell'Unione Europea, con investimenti seri per affrontare la questione immigrazione, favorendo la crescita, combattendo la povertà in Africa, affrontando le conseguenze gravi del cambiamento climatico, pensiamo al deserto che si mangia ettari e ettari di terra coltivata, pensiamo alla carestia in Somalia, pensiamo a quello che succede nel sud Sudan.